eccoci qua grazie marco per essere qui ciao torino e torni a torino dopo insomma un po' di tempo ma qui ci sei stato già diverse volte e di casa sei di casa ecco allora stasera parliamo del tuo ultimo libro il giorno più buono edito da harper collins tu hai scritto moltissimi libri su insomma si parla di alimentazione ci sono chiaramente delle ricette però c'è sempre un concetto alla base questa volta tu insomma vorrei iniziare anche da un elemento che tu metti nell'introduzione perché parli del torrazzo questa nuova avventura che ha influenzato anche questo libro allora l'ha influenzato davvero tanto a tal punto appunto da in qualche modo anche oltre che scattare tutte le foto proprio dei piazzi al torrazzo ma anche proprio come ispirazione perché c'è stato un momento della della mia vita che un viaggio in puglia in qualche modo ha fatto poi la differenza perché vivendo un po' la natura pugliese la bellezza di quel di quella terra del cibo pugliese e tornando a casa in questo viaggio in in aereo parlavo appunto con il mio compagno e ci siamo detti ma perché non facciamo con noi un posticino in puglia in cui scusa sì inizialmente in puglia poi vi ho detto forse meglio farlo vicino esatto però è nata l'inviterra nasceva per farlo in puglia un posticino in cui poter cucinare per gli altri pochi piatti fatti con con amore con una certa attenzione dedicata proprio alla cucina casalinga e perché no circondarci gli animali che alla fine sono un po' il nostro la nostra passione comune e questa cosa ha portato appunto alla nasce del torrazzo insomma arrivo al dunque senza dover raccontare tutto però ecco diciamo che nasce proprio da un'esigenza di di voler portare fuori quello che era un sentimento dedicato proprio a un amore sfrenato per la cucina di casa e la passione per gli animali anche la dieta mediterranea perché dalla puglia insomma è protagonista tant'è che banalmente l'olio che non è un banalmente perché comunque è protagonista in quasi tutti i piatti appunto un olio pugliese abbiamo un delle olive che arrivano appunto dalla puglia apposta per il menù cioè ci sono una serie di accortezze oltre che piacentine altre regioni d'italia perché comunque facciamo girare diversi prodotti però diciamo la puglia resta un po' il nostro protagonista il filo rouge di questo di questo menù di ogni menù e quindi anche del torrazzo quindi il torrazzo sia protagonista di questo libro ma anche protagonista di questa nuova era che era insomma di questa nuova annata che ormai a breve festeggeremo l'anno e insomma abbiamo fatto di recente anche insomma non guadagni niente nel primo anno è tutto a perdere però il hai guadagnato di cosa ne parliamo proprio la settimana scorsa è guadagnato di bellezza di aver incontrato tante persone più o meno ne abbiamo 60 ogni fine settimana che ti arricchiscono dentro cioè porti a casa ogni volta ogni fine settimana quel sorriso in più di quella persona che ti ha detto grazie ho mangiato dalla tua cucina ho assaggiato quel piatto ho respirato questo tipo di aria è comunque un'emozione non tanto venire a trovare ma il fatto di di vivere un'esperienza legata alla natura c'è bisogno di questa cosa secondo me sì in prima adesso abbiamo anche gli ultimi dati proprio scientifici tu devi bloccarmi perché parlo tanto io ho questo difetto diciamo qua tu io devo c'è tutto un lavoro sulla migdala su una parte del cervello che praticamente si è osservato e che basta trascurre 20 minuti nella natura osservando il verde il più possibile che il corpo inizia a rilasciare endorfine quindi iniziamo ad essere più sereni più felici quindi secondo me anche per quello che quando vengono si trovano tutti molto molto bene sono più sereni sono più contenti bene bene partecipiamo a questo sorriso senti nel libro tu parli anche di scelte insomma di scelte che in qualche modo disegnano il futuro in che modo questo concetto poi noi lo ritroviamo nel volume nelle ricette in quello che tu racconti allora sono scelte che trovi in tutti i capitoli praticamente pagina dopo pagina perché ogni giorno siamo davanti a delle scelte che possiamo fare nel libro voglio invitare tutti a una sorta di riflessione che parte dalla colazione quindi dal nostro risveglio fino a quando andiamo a dormire ed è una scelta fatta sostanzialmente di mondo vegetale prettamente cioè l'idea è quella di spingere i lettori loro insomma a una scelta più consapevole cioè il fatto di avvicinarsi al mondo vegetale come un mondo che è fatto anche da prevenzione io non lo sottolineo in ogni ricetta in alcune sì in altre un po' meno però cerco sempre di specificare il perché alcuni piatti sono migliori di altri in termini proprio di io direi di valori nutrizionali ma soprattutto nutraceutici perché oggi giorno un piatto è anche questo è un valore nutraceutico cioè il fatto che dentro un piatto trovi degli elementi che possono in qualche modo poi dialogare con il tuo DNA e attivare quelle molecole cosiddette chiamate della prevenzione nel libro però tu non ti limiti diciamo alle ricette perché c'è una parte anche molto interessante in cui tu spieghi anche dei concetti un po' più tecnici ad esempio come utilizzare il frigorifero che sembra una banalità però ogni ripiano del frigorifero ha uno scopo diverso tu spieghi questa cosa però secondo te c'è poca divulgazione su questo tema? ma secondo me c'è poca divulgazione su questo tema ma come anche la conservazione dei cibi anche in generale ma anche soprattutto sul fatto che se stanno andando a male ed è anche lì che ho trattato le 5R famose come poter poi riutilizzare anche il cibo stesso perché noi magari siamo tanto bravi a conservarlo metterlo anche nei ripiani giusti poi comunque lascia lì il tempo che trova alcuni alimenti, alcuni prodotti quindi siamo capaci di lasciare per troppo tempo un cavolfiore magari e perde poi quello che è la sua bontà in termini proprio di nutrienti quindi poi dobbiamo anche saperlo riciclare, riutilizzare e nel libro c'è anche questa parte c'è una parte che deve invogliare il lettore a dire ok ho questo prodotto affronto anche il discorso delle date di scadenza sì c'è la questione delle date di scadenza anche questo è importante non sempre magari c'è una data di scadenza espressa se invece c'è scritto dobbiamo anche saper gestire il prodotto scaduto posso mangiare, non posso mangiare, cosa mi succede quindi in qualche modo voglio intanto tranquillizzare sul lato alimentazione, alimentare perché è importante cercare di oggigiorno sprecare il meno possibile quindi avere meno residui in qualche modo dal punto di vista alimentare il cibo è un alimento prezioso sempre in tutte le case, in tutte le scelte che facciamo che sia una scelta onnivora, vegetariana, vegana però dobbiamo imparare a selezionare secondo me il cibo per quello che è il suo valore cioè imparare a capire che per tutti potrebbe essere anche quella marcia in più pur trattandolo però correttamente cioè deve essere trattato bene, con rispetto sono delle basi scientifiche naturalmente su tutto quello che tu racconti, che fai perché insomma dalla tua formazione è evidente io sono un tecnico di ricerca biochimica che è una cosa che mi porto dietro come background, come formazione e questa cosa mi ha portato nel tempo poi ad approfondire sempre di più anche il rapporto tra cibo e benessere Ecco, per tornare alla questione della sostenibilità che negli ultimi anni abbiamo assistito un po' una crescita di sia pubblicazioni, libri, siti web che trattano l'argomento dell'alimentazione o le ricette più diciamo banalmente però con un chiave sostenibile ecco, sembra che ci sia più consapevolezza che cosa è cambiato rispetto al passato? Secondo me abbiamo avuto la, diciamo l'ammazzata del covid che in qualche modo ci ha un po' rieducato dal punto di vista alimentare dopo i primi momenti di spese fatte così con frenesia senza troppo renderci conto di quello che mettevamo nel carrello dopo questa piccola ondata poi è durata poco siamo arrivati a fare invece delle spese un pochino più attente dove quasi andavamo a ragionare su quello che davvero avremmo messo poi nel piatto e questa cosa ha portato di conseguenza anche secondo me a una scelta più responsabile c'è un pochino più di attenzione secondo me perlomeno quello che leggo dai commenti dalla mia community ma anche l'Instat l'ha dimostrato con gli ultimi report e anche occhio alla salute su quello che andiamo ad acquistare e in effetti c'è un pochino più di sensibilità adesso non so se magari è una moda o meno però se anche lo fosse è una bella moda insomma va bene per una volta una moda esatto il fatto di riflettere un pochino di più su quello che mangiamo perché spesso e volentieri ci riduciamo a pensarci soltanto quando ci ammaliamo quando c'è una patologia in corso o in famiglia c'è un qualcosa allora all'inizio va a documentarci però è sempre il momento un po' troppo tardivo questo soprattutto per gli altri componenti anche della famiglia cioè bisognerebbe in qualche modo prendere tutto un po' a monte beh diciamo che poi queste questo comportamento queste mode in qualche modo insomma usiamo questo termine a volte hanno anche degli effetti concreti mi ricordo un po' di tempo fa quando si insomma si parlava dell'olio di palma le persone hanno smesso di comprare prodotti con l'olio di palma quindi ci sono delle aziende che hanno smesso di produrli hanno fatto prodotti senza olio di palma lo mettendo insomma l'etichetta senza olio di palma ecco anche quelle cose là forse insomma si riesce in qualche modo a indirizzare il mercato perché poi è quello questo è un po' un problema della diet culture cioè il fatto di dover parlare ossessionarci di un cibo e focalizzarci su questo è vero l'olio di palma contiene tantissimi un'elevata proporzione diciamo di grassi saturi dannosi abbiamo un rapporto tipo di 8-2 al contrario di un olio extravergine d'oliva che ovviamente ha l'80% di grassi insaturi e un 20% di grassi saturi all'interno detto questo la differenza la fa sempre la quantità quindi se noi imparassimo a consumare le cose che non dobbiamo consumare o comunque sapere utilizzare la parola saltuario o comunque utilizzare diciamo con parsimonia quel prodotto che sappiamo non essere magari idoneo per la nostra salute ecco non succederebbe niente a nessuno un po' come vietare a un bambino una merendina magari ne parlavamo anche prima se sai che capita per quella volta X quante volte le mamme mi dicono ho la festa di comprare il mio figlio cosa posso dare ai bambini ma in quell'occasione puoi dargli di tutto e questo è il concetto perché non è la festa in cui devi privarti o privare i bambini per festeggiare dovremmo insegnare il contrario è la festa quindi compriamo questo questo e quell'altro è durante la settimana durante la quotidianità che non deve essere così è uguale per l'olio di palma così come per il discorso del burro della carne rossa degli zuccheri semplici cioè saper capire comprendere che ci sono delle quantità che ormai la scienza hanno dimostrato ha dimostrato essere le quantità che sono dannose se però superate in maniera precisa cioè noi abbiamo dei dati che oggigiorno sono sono forti quindi è per questo motivo che andiamo abbastanza veloci sull'argomento se superiamo i 25 grammi di zuccheri liberi al giorno potrebbe essere un problema per alcune persone e potrebbe essere un problema per tutti se ripetuti nel corso del tempo per le carne rosse sono 500 grammi alla settimana se sono fresche infatti ti volevo chiedere proprio della carne della carne rossa soprattutto carne rossa purtroppo è l'unico dato certo che abbiamo soprattutto se è fresca o è conservata e processata quindi abbiamo se è processata sono 50 grammi alla settimana al massimo da consumare sono 500 invece se la carne è fresca e come carne rossa si intende cavallo maiale manzo agnello e dobbiamo stare attenti per il semplice fatto che è proprio il tipo di ferro eme che contiene la carne il tipo di cotture e la quantità che possono poi interagire con il nostro sistema diciamo genetico di trasformazione e portare poi a evoluzioni oncologiche ad esempio alla base di tutto poi c'è sempre un processo infiammatore invece indotto dall'introduzione di zuccheri semplici quindi l'attenzione dobbiamo porla nel momento in cui riempiamo il carrello cioè se tutti i giorni lo stiamo riempiendo con prodotti sbagliati e non sappiamo poi ripartirne nel corso della settimana o del mese è lì che poi c'è il problema grosso ecco infatti io volevo farti una domanda su questo nel frattempo ne approfitto per rivolgere un invito al pubblico se avete delle domande potete stare la mano se volete pensarci un attimo io vado avanti però le mie domande sono meno importanti delle domande del pubblico ti volevo chiedere questa cosa legata pronto alla sostenibilità di nuovo però da una prospettiva diversa sostanzialmente due prospettive tempo e disponibilità economica io partirei dal tempo perché per diciamo cucinare preparare cibi in un certo modo o anche per fare già la spesa in un certo modo occorre pensarci ragionarci prepararsi occorre tempo ecco come fa una persona tra virgolette normale che ha insomma un lavoro tutta la settimana magari si lavora in due c'è poco tempo come fa organizza tu che consigli daresti allora è difficile perché è veramente difficile farla bene però perdi tempo parlando appunto di tempistiche una sola volta cioè io dico sempre che possiamo anche affezionarci a quel determinato prodotto per un mese due mesi che ne so se ci troviamo bene con il riso nero della X marca andiamo avanti per qualche mese poi magari facciamo tempo a cambiarlo quando c'è una prossima offerta o quando ci viene la curiosità di farlo però sappiamo già che nei suoi ingredienti contiene solo quelli nella sua tabella nutrizionale contiene solo quegli ingredienti quindi andiamo già sul sicuro perderemo tempo solamente in una prima spesa ed è infatti l'invito che faccio cioè dedicate una buona spesa una volta al mese le altre possiamo farle anche velocemente ma quella spesa una volta al mese deve essere fatta molto bene bene vuol dire che leggiamo attentamente quello che siamo per acquistare nel libro ne parlo parlo della regola del 10 per le etichette nutrizionali vuol dire non superare mai nulla che contiene più di 10 ingredienti nella sua tabella perché oltre ai 10 ingredienti risulta che questo prodotto è un prodotto ultra processato troppo arricchito arricchito di ciò che non serve realmente per quel prodotto quindi se già impariamo per dire escludere a priori con questa regola poi selezioniamo in base al prodotto stesso quindi se un prodotto è un è un cracker integrale ma non ci sono tra gli ingredienti la fibra o non è la farina integrale al primo posto ma è verso la fine vuol dire che c'è tutt'altro di mezzo e ti assicuro che al supermercato ne trovi di cracker per dire col primo ingrediente lo zucchero questo per farti capire quindi in parità di peso perché sono in ordine ovviamente crescente il primo è quello più presente esatto quindi vuol dire che quel cracker diventa non è un cracker cioè fondamentalmente è una torta quasi questo deve farci riflettere però dobbiamo anche saperle queste cose se non le sappiamo o meglio le perderemo tempo quella volta lì per una volta che poi l'abbiamo saputa non è in automatico bravissimo quindi dobbiamo prendere questo automatismo su certi prodotti e dopodiché ovviamente passeremo allo step successivo che è quello invece della rapidità nella spesa fatta però con una certa ovviamente attenzione sempre magari sul prodotto nuovo si può imparare insomma come uno fa la spesa si può sempre imparare sempre in qualsiasi momento della nostra vita possiamo imparare intanto una cosa nuova e poi fare una spesa intelligente soprattutto di solito lo fanno i neogenitori loro su questa cosa diventano molto attenti e iniziano a comprare tutto biologico tutto tutta la migliore qualità di solito ecco non dobbiamo per forza arrivare a essere genitori possiamo essere felicemente anche single separati quello che vogliamo purché ovviamente venga fatta una insomma una sorta di spesa attenta ma ma anche fatta di gusto però non non lasciamo mai a casa il discorso gusto cioè cerchiamo sempre di confezionare anche delle ricette che siano buone buone da mangiare buone per tutta la famiglia devono piacere sembra una punizione perché se no se già la spesa diventa un peso farla poi a casa non cuociamo niente se non con le due carote lessate magari e poco di più ecco dobbiamo divertirci in cucina questo è un po' l'obiettivo principale ecco invece la seconda questione legata alla sostenibilità l'aspetto economico perché a volte questi prodotti costano è vero è vero però spesso e volentieri è un costo che intanto puoi ammortizzare nel corso del tempo perché un prodotto buono spesso e volentieri magari immaginiamo un buon cereale anche un buon farro un buon orzo un buon riso spesso e volentieri vedo che hanno aumentato davvero i prezzi su Milano perlomeno veramente è allucinante quello che vedo anche a Torino immagino infatti immagino però c'è anche questo l'aspetto della medaglia che comunque è un prodotto che in qualche modo diluisci poi nel tempo non per forza in tutta settimana consumerai quel pacco di riso o di cereale o di altro prodotto spesso e volentieri quello che io consiglio è di variare nella spesa almeno quattro cereali diversi e in questi quattro cereali ovviamente dedicarsi poi un giorno una settimana che sia un'ora due ore in cucina in cui andiamo a cuocere tutti i cereali che abbiamo e li andiamo poi a porzionare in freezer nel congelatore per tutta la settimana stessa così facendo ottimizziamo i tempi ma al suo tempo abbiamo anche alleggerito il portafoglio perché non abbiamo avuto sprechi anche su questo voglio poi sempre cercare di soffermare le persone perché noi buttiamo via tantissimo nel libro invito anche a fare del compostaggio in casa che magari anche troppo me ne rendo conto a volte anche se magari una piantina ce l'abbiamo tutti e fare qualcosina che può anche servire poi aiuta aiuta anche i bambini a vedere come si trasforma la materia detto questo è sicuramente è importante poter valorizzare al meglio secondo me tutto quello che è la possibilità di riciclare ciò che abbiamo sotto gli occhi quindi il fatto di non buttare via di avere un residuo quasi a zero perché poi magari non ci rendiamo conto che il prodotto costa meno noi compriamo un po' di più e poi scade lo buttiamo via ma è quasi sempre così è quasi sempre così e poi ovviamente porci anche la domanda sul perché a volte costi così poco magari invece alcuni prodotti e discorso a parte il rincaro però ecco pensiamo e riflettiamo quando magari non so 5 kg di carne bianca di petto di polo magari ti può costare 2,50 euro che ne so e ci sono dei prezzi del genere ecco poniamoci magari anche queste domande secondo me l'interrogarsi è sempre una buona cosa dobbiamo farlo ovviamente in un momento in cui sappiamo anche darci delle risposte o sappiamo cercare delle risposte